Quello che si nota nel lavoro che sta facendo il Governo è una piena e completa condivisione con quello che sta facendo la Regione. Abbiamo trovato subito un'intesa, siamo usciti con un accordo completo e condiviso, ma non solo sul 2013. Il patto di stabilità 2014-2016 è migliorativo sia nei confronti della Regione ma anche nei confronti dello Stato perché riesce a chiarire meglio l'impostazione del patto che avremo per i prossimi anni. Spero e sono certo che anche per la finanziaria definitiva ci sia lo stesso atteggiamento responsabile da parte di tutti gli onorevoli di questa Regione che io ascolto perché a me piace confrontarmi e vedere il punto di vista di tutti e che poi il Governo calerà in maniera concreta nella manovra definitiva. Ma i soldi per questa manovra dove li prendiamo? Avvieremo immediatamente una ricognizione quantitativa con tutti gli assessorati che è già pronta sulla mia scrivania per definire tutti i contratti e i benesservizi che attualmente sono in atto nella Regione siciliana e questo già è un primo impatto di riduzione di spesa che verrà a confluire nel bilancio definitivo e che ha un valore perché noi stimiamo all'incirca 100 milioni di euro perché 50 più o meno nella sanità e 50 in tutti gli altri beni e servizi della Regione. Questi sono numeri certi che vanno nel definire quel documento di bilancio che tutti ci auguriamo di portare in aula entro metà luglio.